Vinitaly 2019 a Senonobile è venuto qui su invito anche di vino 75 nel padiglione Puglia e precisamente a trovare San Marzano sono qui con Francesco Cavallo presidente dell'azienda che cosa presentate oggi qui? Oggi presentiamo al new entry che è notte rossa rosato che è un rosato di primitivo abbiamo stravolto quello che è la cultura del primitivo pugliese nel mondo cioè di colore intenso carico di polifenoli di antociani super maturo proveniente da una super maturazione lo abbiamo vendemmiato a cerbo lo abbiamo fatto macerare in bianco e questo ci ha consentito di produrre questo rosato di primitivo di nuova generazione che speriamo riscontri il gusto del consumatore ma dalle prime analisi commerciali avvenute proprio qui al Vinitaly sono convinto che il notte rossa rosato sarà un grande successo e una situazione in cui secondo lei si può aprire una bottiglia di questo primitivo rosato credo che chi ami il rosato lo beva durante tutto il pasto consigliamo questo prodotto a tutti quelli che sono appassionati del rosato e non e chi vuole assaggiare il notte rosa o tutta la produzione di San Marzano sull'e-commerce vino 75 trovate le offerte 5 6 6 8 8 9 10 10 11 11